Lunedì di svolta doveva essere, lunedì di svolta effettivamente è stato, dopo una trattativa lunga e a tratti estenuante, portata avanti dall'amministratore delegato Pietro Lamorte e dal sindaco Giovanna Bruno, Giuseppe Di Benedetto è finalmente il nuovo proprietario della Fidelisandria, la tanto attesa firma di fronte al notaio, alla presenza del presidente uscente Aldo Roselli che contestualmente ha rassegnato le dimissioni ponendo fine alla sua era quinquennale cominciata subito dopo il fallimento dell'estate del 2018 e è arrivata nelle scorse ore, come da previsioni, nessun'altra sorpresa, nessun ulteriore capovolgimento di fronte, l'ex patron del Manfredonia che già da settimane lavorava sotto traccia per conto della Fidelis, sarà il volto della ripartenza del club federiciano dopo la retrocessione indite lo scorso aprile, ripartenza che da un punto di vista tecnico come ormai noto da giorni è stata invece affidata a Savino Daleno, l'uomo mercato bianco-azzurro, al suo fianco come allenatore ormai sempre più vicino Francesco Farina, da un'ex barletta a un altro, il Tande che ha reso grande il sodalizio bianco-rosso nell'ultimo biegno sta per ricomporsi, superata la concorrenza di Pasquale De Candia con il quale non si è trovato l'accordo, superata anche quella di Vincenzo Feola, il nome che a un certo punto della scorsa settimana pareva essere in pole position per la panchina andriese, si attende soltanto l'ufficialità per il trainer campano, ufficialità che andrà a precedere le prime relative ai calciatori che comporranno la rosa per la stagione che verrà, sempre più insistenti le voci di ritorni di fiamma per Nicola Strambelli e per Lorenzo Longo, con i quali sarebbe già praticamente tutto fatto, adesso viene il bello, adesso la Fidelis può finalmente rivolgere lo sguardo verso il futuro.